Anche per l'anno 2021 la FEE, Fondazione Internazionale per l'Educazione Ambientale, ha riconosciuto silvi meritevole della bandiera blu, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi turistici che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale. Ovviamente l'amministrazione comunale sta lavorando lacrimente anche a delle iniziative per la stagione estiva, oramai alle porte. Anche quest'anno ci siamo impegnati più di tutti gli altri anni perché era importante per Silvio ottenere la bandiera blu quest'anno, un anno in cui abbiamo sofferto di questa pandemia tantissimo, per cui è necessario ripartire nel miglior modo possibile. La bandiera blu è il primo dei modi con cui ripartire perché attesta la qualità delle acque, attesta la sicurezza delle spiagge, ma anche il nostro lavoro per cercare di dare ai turisti che arrivano un'accoglienza meravigliosa in questo mare di Silvi che è sicuramente meraviglioso. Ovviamente adesso si pensa la stagione estiva, bisogna attrarre i più possibili turisti anche da fuori. Assolutamente sì, ci stiamo impegnando sia con gli operatori turistici ma anche il Comune, sta cercando di mettere in pratica ed in campo tutte quante le sue forze per poter pubblicizzare il territorio. Abbiamo un social media manager quest'anno che comincerà la nostra campagna di promozione turistica per il territorio. Dobbiamo ripartire ad ogni costo. Ci saranno degli eventi anche quest'anno, sempre nei limiti legali, perché la pandemia non ci consente nemmeno quest'anno di poter aprire le porte ai grandi eventi, però riusciremo anche quest'anno a contentare tutti, i piccoli, i ragazzini, i grandi e anche le persone più adulte.